Armato di sacchi, guanti, scope e rastrelli, l'esercito di Puliamo il Mondo ha invaso i quartieri di Milano. Dalla Comasina a Mazzini, da Corbetto ai Navigli, da Sant'Ambrogio a Ghisolfa, sono oltre 3.000 gli studenti di 25 scuole milanesi impegnati nella prima giornata di pulizia della campagna di Lega Ambiente. Luca Petitto, responsabile scuola di Lega Ambiente Lombardia. Puliamo il Mondo ogni anno coinvolge migliaia di bambini in tutta la città e in tutta la Lombardia. I bambini sono molto contenti e felici di partecipare a Puliamo il Mondo proprio perché permette di far vivere il loro quartiere in modo diverso, con attività di pulizia, dei giardini, dei parchi, del quartiere dove vivono. È un modo per loro per riscoprire il loro territorio, spesso il tragitto casa-scuola che vivono in maniera distratta, in quel giorno invece se ne possono prendere cura. Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale. Nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 paesi. In Italia, da sempre il venerdì, i più piccoli sono i primi protagonisti della campagna. Marco Granelli, assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano. I bambini e ragazzi sono i cittadini di domani, quindi l'impegno dell'ambiente, delle insegnanti, dei comitati di quartiere è molto importante perché seminiamo per il domani, seminiamo per i cittadini e anche, soprattutto qui nei nostri quartieri, anche in periferia, dove abbiamo bambini di tutte le etnie, imparano e vivono l'attenzione ai beni comuni. Dentro al Parco Sempione, invece, riprende vita anche grazie al volontariato Cascina Nascosta, un luogo unico e affascinante, rimasto celato agli occhi dei milanesi per anni. Nell'ambito di Puliamo il Mondo, i dipendenti dell'azienda KPMG sono stati coinvolti in una giornata di lavori di manutenzione per ridare un nuovo volto ai locali della Cascina.